... Liberi TV, siamo qui oggi a Catanzaro, alle manifestazioni contro le mafie, organizzato da Coordinamento Libera Catanzaro. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Catanzaro è una città che fino a poco tempo fa è stata una città tranquilla, serena. Purtroppo gli ultimi episodi ci fanno pensare ad una criminalità sommersa, una criminalità che purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo sempre di più. Lo Stato dovrebbe combattere la criminalità organizzata con una politica del fare, una politica di sensibilizzazione della cultura del fare, dell'attuare in progetti a favore delle persone più deboli, a favore di tutte quelle persone che si trovano in difficoltà perché persone minacciate oppure perché persone che vengono giorno dopo giorno sottoposti ad una vera e propria criminalità, ad un vero e proprio terrore psicologico. Perché non dobbiamo scordare che purtroppo chi viene minacciato dalla criminalità organizzata subisce un terrore psicologico. Si ha paura di uscire, si ha paura di camminare per le strade, si ha paura di condividere con i propri amici o con i propri figli i momenti liberi. E questo perché? Perché comunque c'è questa criminalità che si sta spendendo giorno dopo giorno e ora dopo ora. Lo Stato, come tutta l'autorità giudiziaria, dovrebbe star vicino a tutte queste persone attuando, come dicevo inizialmente, una politica dell'agire, la politica del fare perché purtroppo non c'è ancora la voglia di creare un paese di legalità e di solidarietà. Voglio ricordare, perché la mia è un'associazione che si occupa di tematiche minorili e voglio purtroppo ricordare tutti quei minori che purtroppo vengono addescati nelle fila mafiose e vengono addescati nelle fila mafiose per quale motivo? Oppure con quale promessa? Promettendo ai ragazzi il facile guadagno, il guadagno semplice, la popolarità nel proprio paese o il rispetto da parte di tutti e purtroppo i minori, essendo minori a causa della loro giovane età, cadono in queste vere e proprie reti. Io ricordo con piacere una minore, parliamo però degli anni 90, che era la figura di Ritatria. Ritatria, una minore che fece le prime confessioni al giudice Provalo Borsellino. E questa minore venne ascoltata dai giudici e ebbe il coraggio di ribellarsi alla sua famiglia, che era appunto una famiglia mafiosa, e a tutti gli Ergamonos e Erga Omnes di stampo mafioso. Quindi questo coraggio che ha avuto Ritatria speriamo che ce l'abbiano tutti quei ragazzi che purtroppo vengono addescati dalle fila mafiose e possano dire no a questo brutto fenomeno che purtroppo che io definisco un'epidemia, definisco un vero e proprio cancro della società che si sta sempre di più espandendo. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Beh innanzitutto c'è da dire che qua è il crimine, c'è questa sorta di... non se ne parla, questa omertà. E infatti soprattutto nel quartiere Pistoia, dove è la mano armata dell'Andrangheta in questa zona. E infatti c'è questa... non se ne parla. Quando si passa davanti a quel quartiere nessuno vuole sapere cosa c'è dentro, perché si fa. E quindi parte tutto da questo. Infatti per esempio noi siamo... questo è il terzo anno che siamo là e facciamo dopo scuola i ragazzini rom insieme a Libero quest'anno. Quindi... e poi abbiamo fatto pure un articolo all'inizio di com'era la situazione. Adesso siamo andati nelle casse di queste famiglie perché farete varie domande tipo quanto tempo stavano là e quanto tempo abitavano, com'è che è cambiato. Perché il quartiere Pistoia, prima non è sempre stato così il ghetto del Catanzaro. C'è... prima si facevano feste, sagre, c'erano concerti. Poi piano piano è iniziato il degrado. Quindi innanzitutto l'informazione, questo è. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? La presenza. Facendo sempre riferimento a Pistoia perché conosco con mano. No, là ci doveva essere una scuola per poliziotti di carcere. Solamente che la struttura è stata completamente abbandonata e se ne sono andati in un'altra parte. Quindi alla totale assenza. L'unica istituzione che c'è in quel quartiere è la chiesa. Quindi cominciare con la presenza e dopo le informazioni ai cittadini, perché i cittadini lo sanno. Dopo è questione di metterci la faccia. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Il fenomeno mafioso sembra essere dei nuovi, in realtà, nell'opinione collettiva di Catanzaro. In realtà la dimostrazione di odierna sa significare, a mio parere, che forse è rimasto sempre troppo sopito o qualcuno ha voluto fare di proposito, ha voluto girare le spalle di proposito. Bene, penso che il tempo di svegliarsi doveva essere già prima, doveva essere già precedente a questa manifestazione. Siamo abituati a curare le patologie, non a prevenire. Catanzaro è bene che si svegli, da questo mio punto di vista. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Spudoratamente le dico che, proprio per proseguire il discorso, secondo me la strada della repressione ormai è finita. Qua si deve passare, a mio modesto parere, alla formazione. Qua è tempo di formare le nuove classi dirigenti, la mentalità. Cofi Annan, ricordo, pochi anni fa, aveva detto che la repressione è ormai finita per il crimine. Beh, dovremmo ripartire dalle scuole, piuttosto che tagli alla formazione, è tempo di nuove mentalità. Grazie. La scuola è una battaglia contro la mentalità masiosa, che poi qualunque ideologia è disposta a svendere la dignità del uomo per soldi. Queste sono le parole di Don Pino Pugnesi. Come percepisce la criminalità organizzata in una città come quella di Catanzaro? Come la percepisco? La città di Catanzaro è una città molto povera, l'economia è un'economia piccola, delle piccole imprese, che già a malapena riescono a sopravvivere, a stare a galla. Quindi io credo che è difficile che si annidi una criminalità a Catanzaro, perché non c'è un ricavo inutile nelle aziende tale da poter riuscire anche a coprire questo ricavo, queste uscite sommerse. Non penso proprio. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Lo Stato dovrebbe dare la certezza della pena, se non c'è quella, e stare vicino al cittadino, sorvegliare. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Guardi, Catanzaro non credo sia mai stata veramente un'isola felice. Io ci vivo da 35 anni, e ho notato anche un fenomeno particolare. Più aumenta la crisi, più aumentano gli attentati. Si vede che la crisi colpisce anche loro. E purtroppo che negli ultimi periodi si sta intensificando eccessivamente e viene percepita una mancanza dello Stato a difenderci. e sappiamo le difficoltà che hanno i corpi di polizia per la mancanza di mezzi, eccetera. Però cominciamo a sentirci un po' tutti insicuri. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Ma sicuramente la mafia vive di crisi economica, vive di disoccupazione, e poi dovremmo definire la mafia. La mafia è anche il colletto bianco dietro alla scrivania, che è un semplice impiegato, senza potere di decisionale, e ha degli comportamenti. E quindi è un discorso molto ampio. Si torna il rischio di essere poi retorici. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Devo dire comunque che nella realtà di Catanzaro il crimine organizzato è molto diffuso, anche perché possiamo vedere anche adesso, mentre percorriamo il corso, che tutti i negozi sono chiusi, e io credo che la causa di tutto questo sia data da un qualcosa chiamato comune di Catanzaro, ma alla fine quello che ha creato, appunto per far chiudere tutti questi negozi, non sia altro che quel micro crimine organizzato che ormai viene così definito come mafia, ma che ritroviamo anche nelle nostre istituzioni. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Beh, è una bella domanda. Sicuramente per contrastare le mafie, prima di tutto dovrebbe creare una coscienza antimafia nelle persone, ed è quello che soprattutto anche questa manifestazione vuole creare, e partire sin dalla scuola, proprio nel creare questa coscienza, perché come disse Platone, se si vuole lo Stato migliore, si deve partire appunto da avere un uomo migliore, e quindi avendo questo uomo migliore, possiamo anche combattere la mafia. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Guardi, veramente siamo un po' tutti meravigliati per questa criminalità che ultimamente sta sfociando. Presuppongo che la criminalità c'è sempre stata, ma è sempre stata la scossa, e quindi oggi invece sta uscendo un po' alla luce, molto probabilmente. Penso proprio questo. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Io penso che lo Stato siamo noi, e quindi il contrasto dovremmo essere proprio noi, tutti quelli che siamo qui in questa piazza, a contrastarla, nella lealtà, nell'onestà di ogni tipo di lavoro. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? La percezione che noi abbiamo e che credo abbiano tutti i catanzaresi è che gli eventi delle ultime settimane sono qualcosa di insolito per questa città, generalmente considerata un'isola felice in Calabria. In ogni caso, noi siamo qui e la cittadinanza è qui oggi per dire che non ci stiamo ad una trasformazione di Catanzaro. Quindi, qualunque sia la natura degli atti intimidatori degli ultimi giorni, noi siamo qui per dire un forte e risoluto no. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Lo Stato deve fare la sua parte attraverso le forze dell'ordine, attraverso la magistratura, quindi i canali tradizionali della lotta alla criminalità, ma c'è un altro canale forse ancora più importante per la lotta a qualsiasi forma di crimine organizzato, che è la scuola, che è la formazione. Una persona molto più autorevole di me, che purtroppo non c'è più, ha detto che la mafia un giorno sarà distrutta da un esercito di maestre elementari. Quindi è da qui che bisogna partire. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Intanto la percezione che si ha dentro la gente è quella che ci sia un problema, perché gli attacchi di questi giorni hanno creato davvero angoscia tra i cittadini, tra i lavoratori di Catanzaro. Molti volevano sfogarsi, manifestare e dire che non sono uguali a quello che stava succedendo. Assolutamente non si piegano all'idea che la propria città sia una città occupata dalla mafia. La dimostrazione è questa bella piazza che si è trasformata in una manifestazione corale, in un dialogo tra le persone, che praticamente hanno gridato da tutti i punti di vista, insieme anche al sindacato. C'era per noi Gianna Fracassi della CGL nazionale, che rappresentava tutto il mondo del lavoro, che hanno gridato che la città di Catanzaro non ci sta. Prendendo esempio, da esempi anche importanti, che in Calabria hanno dimostrato che ci si può liberare dal gioco della mafia, questo è un primo passo. È un primo passo ed è un passo importante perché la città ha risposto, c'era tanta voglia di partecipare. Questo significa per noi che si riparte con una forza in più, sia dal punto di vista della nostra azione di sindacato, perché ognuno faccia la propria parte all'interno della propria organizzazione, sia come cittadini di questa città. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Quello che fa è importante intanto quando si tratta di le azioni di polizia o le azioni della magistratura che in questa città comunque continuano a compiersi e comunque vi è controllo e vi è prevenzione. Quello che deve fare lo Stato è quello di far sentire i cittadini sicuri, di far sentire i cittadini liberi dal gioco delle mafie. Purtroppo spesso non è così perché anche quando gli episodi si sono verificati, anche quando operazioni sono riuscite a dimostrare che l'andrangheta prezzava i commercianti, gli imprenditori di Catanzaro, la presenza delle nostri tuzioni per dire noi ci siamo, denunciate, difendetevi perché noi saremo dalla vostra parte, ecco questa è quello che manca. Infatti noi non smettiamo mai di chiedere organici per i tribunali perché sono carenti, organici per le forze di polizia in questa città perché sono carenti. Il sindacato di polizia ci dice che c'è una sola volante la notte che gira nei quartieri a rischio con due soli agenti e chiediamo più sicurezza appunto dal punto di vista delle forze dell'ordine, delle forze di polizia che devono stare sul territorio a controllare. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Io sono dell'idea che la risposta è stata forte e andava fatta, perché il periodo è particolarmente delicato e non consente sottovalutazioni. Devo dire che a Catanzaro hanno dimostrato di non sottovalutare quello che è successo. Mi auguro che non lo sottovalutino gli organi dello Stato perché la comunità ha risposto però adesso altri devono dare risposte adeguate. Che dovrebbe fare secondo lei lo Stato per contrastare le mafie? Allora, intanto vediamo quello che possiamo fare noi, perché noi non siamo una cosa fuori dallo Stato, siamo una cosa dentro lo Stato. Poi vediamo cosa può fare la politica, poi vediamo cosa può fare l'informazione. Io qui non mi piace fare lezioni sugli altri, mi piace vedere le responsabilità mie di quello che faccio io quando esco da qua. E allora noi come informazione abbiamo molte cose da fare. Se noi le faremo, lo Stato sarà costretto ad essere all'altezza, la politica sarà costretta ad essere all'altezza, i cittadini saranno informati e se informati si indigneranno per chiedere allo Stato e alla politica di fare quello che deve fare. Quello che deve fare poi lo sappiamo tutti, deve applicare le leggi, le regole e deve evitare che qui ci siano delle leggi non scritte, tipo quella che c'è molto dalle mie parti, della Ionica, se volete voi, ecco, questo se volete voi che serve ad aggirare qualsiasi legge, qualsiasi regolamento, non va più bene. Lo Stato lo deve eliminare in questo modo di ragionare. Grazie. Io sono sindaco di Lamezia, non credo che ci sia molta differenza. Il crimine organizzato è una schifezza, il crimine organizzato è qualcosa che si manifesta soprattutto verso gli imprenditori, ma peggiora e compromette la vita di tutti, persino dei ragazzi, che è la cosa più brutta. Io sono un assessore di Pizzo, e Pizzo è il paesino più grande della provincia di Vibo, Valencia. Facciamo parte, siamo l'unico paese a far parte di avviso pubblico. Noi istituzioni abbiamo il diritto di tutelare i nostri cittadini, i nostri imprenditori su questo, come diceva Gianni prima, schifo che può essere quello della mafia, contro le persone. Questo dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Dovrebbe tutelare, dovrebbe tutelare i cittadini, ancora di più, perché secondo me ancora, ma c'è un grosso lavoro da fare, soprattutto partire dai ragazzi, e andare molto, 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 capire come funzionano queste organizzazioni, cercare di rompere quegli organismi che sono distruttivi. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? Come spiegato alla manifestazione, credo sia un tumore associato allo Stato italiano, come criminalità organizzata. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Per contrastare le mafie aggiungerei, prima di tutto, un aiuto, prima di tutto, dalle istituzioni scolastiche. Grazie. Come percepisce il crimine organizzato in una città come quella di Catanzaro? È una risposta importante, aggregante in una città che ormai aggrega poco, ed è un buon seme lasciato in una situazione dove si pensava che ormai tutto fosse rinsecchito, e dove si pensava che ormai non c'era più nulla da risollevare dopo l'infamante azione che bloccò la primavera di Catanzaro con la sconfitta del centro-sinistra con a capo Salvatore Scalzo. Questa è un punto di rinascita dentro la quale però bisognerà essere molto rigorosi nel percepire le differenze e nel percepire coloro i quali stanno sul terreno reale del rinnovamento e del cambiamento di pagina della storia di questa città. Non si può essere tutti dentro uno generico antimafia. Nell'antimafia bisogna capire la storia di ciascuno, da dove avviene e dove vuole andare. Questo dovrebbe fare, secondo lei, lo Stato per contrastare le mafie? Io credo che ci sia una legislazione molto ampia, forte. Basta intanto essere rigorosi nell'applicare già ciò che c'è. E giusto per citarne una, credo che ci siano dei grandi ritardi sulla confisca dei beni perché questo è un punto dolente dell'applicazione delle norme e l'altra cosa è l'intransigenza assoluta nel come si definiscono le classi dirigenti. Credo che lo Stato, la comunità e per essa i soggetti di intermediazione che sono i partiti e le associazioni dovranno guardarsi una volta per tutte dentro e darsi un codice su come si selezionano le classi dirigenti. Non possono essere ammucchiati di club o amici di club. Le classi dirigenti bisogna ritornare a selezionarle attraverso percorsi democratici che siano protagonismi dai quartieri alle città e non aggregati di cupole. Grazie. Grazie.